Buongiorno mio caro, avrei bisogno di un capo olio a bombetta. Mi spiace non abbiamo, ti posso far vedere una bella coppola. Se volevo una coppola, andavo al villaggio a coppola. Sta bella, ma perché parli come olio? Vedi che è lui che parla come me, stupido. Tu parli come olio, tu tieni un baffetto come questo, stupido sono qui, cominciamo un po'. Vabbè, in cosa posso esserti utile? Caro Staglio, ho bisogno di fare dello shopping. Ma c'è Staglio? Mi chiamo Giovanna. Ma non scherzo, non prendi la camera. Adesso prendi la telecamera. No Staglio, sono molto serio. Ancora con Staglio? Vabbè, basta che ti compri qualcosa, facciamo pure tutto. Cosa ti interessa? Sarò interessato a questa maglietta. Ah, questa qua? Questa costa 500 euro. Ma come mai così tante? Perché con queste 500 euro che mi dai per acquistare questa maglietta della Colmar, io devo colmare una roba di Roma. Ma il debito è il tuo, cosa c'entro io? Ma io lo so. Ma come, frate di Staglio, il rapporto è il sangue. Chi? Non è il piacere. Senti, seriamente, fammi vedere qualcosa di più economico. Tipo, questa magliottina con il coccodrillo sul pot. Ma se vuoi risparmiare, non andiamo su quell'articolo, la costa. Allora aspetterò i soldi, tranquillo, molto. Ma ci vuole tranquillamente tempo. Ma come faccio senza saldi? Io, per vestirmi, faccio i soldi mortali. Vabbè, vai dare uno squadro nel riparto offerto. Non mai se lo racconto a qualcuno, non ci crede. C'è una sola pazza. Buongiorno. Sono senza consigli. Sono giornalino di Savastanza. Eh, stai mi scherzo. E sono copiace e c'è una famiglia di Savastanza. Figurati se voleva più piccolino, non lo pareva proprio. Allora, per caso. Ma sempre una sorda! Cosa? Ma sempre una sorda! Cosa? Ma sempre una sorda! I sordi. Ah, chiedi, ci sono piccoli di te. Ma viene proprio a chi? Chi si sta proprio guaiata. Ma guarda che buona bambina. Il tuo figlio. Ah, chi? Bambina, chi è tu? Il suo generino Savastanza. Ma ci ha fatto 20 anni a secondi, 10 anni non durato. E ora mi si fa una settimana a casa e voto uno. Sta bello! Zona vip! Come è stato? Guardatevi tutti quelli che ti vuoi. Perché, papà, ci hanno pagato tutti quelli che erano nostri. Mio cavolo! Ti! Inizi a pagare la stufa. E che è passato per carnavato? Ma perché? Non è oggi? No! No! Vai giù! La verità? Quando erano così fessuto, pensavo che c'era arrivato il carnaval. Vieni qua. Solo un po' di tempo che mi hai fatto perdere. Io ti avessero una capa di mucca. Sì, vabbè, ma se mi alzo non ce la fai. Vabbè, hai capito? Ora scelgo il tuo furgone, andiamo al furgone, prendiamo la scaletta, la porto a casa, la coppa di tutto. E poi? E poi mi fermo 5 minuti. Ma che ci vuoi spratto? Poverina! Poverina! Babbo! Che faticate! Mamma mia, questo è proprio un manicomio! Infatti sono scappato dal manicomio! Ma ci è purtroppo, noi i cammini! Rivetarci! 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 Rivetarci!